Con il tuo scritto, mi amico e la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo di suo figlio, dato da tua vergine al evento del mondo, vi colgire la sua benedizione. Dio mi prometta sempre per l'intercessione di Maria, la vergine e la madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della beata Vergine Maria del Conforto, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. E per l'intercessione della beata Vergine Maria, e dei santi apostoli, Pietro e Paolo, vi benedica di ogni potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo.